Salvini è in Israele per le prossime 48 ore. Potrebbe slittare ancora l'annuncio dei leader del centrodestra sul candidato alla presidenza della regione Bruzzo. Rimane in pole position il senatore Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia, ma tarda l'imprimatur da parte non soltanto del Carroccio, ma anche di Forza Italia. Dal coordinatore regionale azzurro Nazario Pagano, nella serata di ieri, è giunto del resto un nuovo altolacche, pur privo delle coloriture utilizzate dal suo vice Antonio Martino, allo stesso destinatario, il partito della Meloni. Lo scontro tra alleati nella maggioranza al comune dell'Aquila e la fame di candidature a Palazzo dell'emiciclo a Monisce Pagano non producano inaccettabili atti di ostilità tra alleati. Lo scontro nell'amministrazione del capoluogo, come ha paventato assegnandosi il ruolo di paciere il senatore del collegio Gaetano Quagliariello, rischia di essere il detonatore, o per i più maligni il pretesto, di una rottura fatale alle sorti del centrodestra abruzzese. Ma le decisioni vere saranno prese a Roma, ed è nella capitale che si segnalano gli indizi più interessanti. Il primo è che Berlusconi, anche in questi giorni, continua a fare sondaggi sull'Abruzzo. Il secondo è l'attendismo della Lega, che più il tempo trascorre e più ne ha per passare all'incasso, e che guarderebbe con minore preoccupazione rispetto agli alleati all'ipotesi, che pure rimbalza sulla stampa nei corridoi della politica, di un clamoroso rinvio del voto in Abruzzo all'Election Day del 26 maggio, nello stesso giorno delle amministrative e soprattutto delle europee.